I chitarristi Stokelo Rosenberg, Polo Viscardi e Salvatore Russo insieme al controbassista Camillo Pace saliranno venerdì sera sul palco del Cineteatro Garden di Rende per dare vita ad una notte in cui il Gypsy Jets farà da padrone. Ad esibirsi sarà infatti il quartetto nato per l'occasione, il Gypsy Jets Quartet, grazie ad un'idea divenuta poi fatto concreto della Groove Music Academy. Quattro musicisti di altissimo livello e l'olandese Stokelo Rosenberg che si porta dietro un curriculum di tutto rispetto ed una formazione che deve molto ad un mostro sacro del genere Django Reinhardt. Rosenberg, che dire, grazie all'amicizia che ho coltivato nel tempo con un grande della chitarra internazionale che è Salvatore Russo, ho avuto l'occasione di conoscerlo proprio nel Basili Jazz dell'edizione del 2013, mi ha dato la possibilità di suonare con lui e oggi l'abbiamo invitato in Calabria per la prima volta a Cosenza per un evento spettacolare, ossia un suo concerto unito alla nostra formazione Gypsy ereditata da lui e da altri che fanno questo genere musicale. e ricordiamo in particolare che lui è l'erede, l'erede per eccellenza dello stile Django Reinhardt, chitarrista di origine olandese Stokelo Rosenberg, di famiglia di musicisti, partiano al popolo dei Manoush, fanno musica Manoush, lo stile vero e proprio si chiama Manoush, Manoush Jazz. Non è un altro che un popolo che a cavallo fra gli anni 20-30 comincerà a muoversi, popolo nomade, ribadisco nomade perché è popolo, soprattutto perché loro non fanno altro che riscattare un retaggio culturale che fino ad oggi non hanno mai avuto modo di fare, quindi erano artisti di strada, circensi, musicisti, fusero le varie attività musicali che incontrarono nel loro percorso. Uno di questi ereditieri, di queste fusioni, era Django Reinhardt che nonostante avesse soltanto l'uso di due dita, perché altri due legamenti della mano sinistra erano legati, inventò uno stile tutto suo, inventò il cosiddetto jazz francese, che ereditò, Stokelo Rosenberg, il massimo, il top che c'è nel mondo per quanto riguarda questo genere, e che dicono noi possiamo vantarci di averne un altro che è Salvatore Russo, che è sempre con lui, in sua compagnia, un suo amicone, e oggi ho la fortuna di incontrarli, conoscerli e soprattutto di suonerci insieme venerdì. Insomma una serata che si lascia presa a gira appassionante e coinvolgente, che vuole farsi anche momento di diffusione di quello che non è solo un genere musicale, ma anche un fatto culturale in senso stretto, rappresentando la pietra miliare di quella che è la cultura zigana. Insomma venerdì sera un momento di buona musica di cui sono reperibili tutte le info al sito www.groovemusicacademy.it